Ciao persone glitterose e benvenuti o benvenuti sul mio canale Location diversa, sono praticamente sotto al letto Questa è la spalliera dei piedi Spalliera, non lo so come si chiama Le piedi si è sfatto perché fa caldo e non ho voglia di fare il letto Tanto ci dormo sopra le lenzuola, quindi vabbè Questo è un altro discorso Volevo fare questo video già da parecchio tempo Solo che poi non ho mai avuto nel tempo né la voglia di mettermi qui e farlo E poi mi mancava anche l'ultimo acquisto che mi è arrivato da poco Per poterlo farlo abbastanza in modo completo A certa gente potrebbe non interessare questo tipo di video Però a gente come me che ama questa saga libresca Potrebbe benissimo interessare Come avete detto dal titolo, qui sotto vi mostrerò la mia collezione di Shadowhunters Ciao Seba È una persona a cui voglio tantissimo bene ma a cui non piace Shadowhunters Per cui non le interesserà vedere questo video Però io lo voglio fare e lo faccio Cambierò inquadratura Così vi mostro i libri Più alcuni gadget che ho sulla mensola riguardanti Shadowhunters Gli altri gadget ovvero bracciali, collane eccetera Non ve li mostro perché sono davvero tantissimi Vi mostro solo per la maggior parte i libri E appunto i gadget che si trovano proprio sulla mensola Perché ripeto Le collane così sono tutte messe in un baule Insieme ad altri gadget tipo bracciali di Harry Potter Con la nana di Pirati dei Caraibi Insomma c'è un miscuglio di roba in quel baule E ci metterò una vita a tirarli fuori E siccome non lo voglio fare troppo lungo Questo video vi mostro solo quelle che ho sulla mensola Adesso cambio inquadratura Poi ci vediamo dopo Allora La mensola si presenta così Ok Praticamente non ci staranno più Perché dopo Cioè praticamente dietro questo libro ci sono dei buchi Dove entrerà la nuova trilogia Però ne sta scrivendo altre tipo due di trilogie E dovrò cambiare anche la posizione dei libri Bene Adesso vi illustro diciamo partendo da qua Partiamo dai gadget che si trovano in questa zona E abbiamo la candela Con il profumo di James Carstairs Scusate Ed è una candela presa da Etsy Sì c'è un po' di polvere qua Devo pulire un pochino Sì E vediamo se mette a fuoco Ecco qua E c'è il violino perché è il simbolo che rappresenta appunto questo personaggio Ed è bellissima Non la userò mai perché mi piace tenerla per ricordo Questa candela qui non c'entra niente È una candela unicorno ma non c'entra niente Sopra però troviamo l'anello Morgenstern Che praticamente è la mia famiglia di Shadowhunters E ecco Sul pollice non mi va però Sull'indice mi va un po' grande Ma me lo faccio anche andare bene Con appunto la stella Perché è il simbolo della famiglia La M E l'altra stella di qui Qui dentro ho Aspettate non riesco a farlo uscire Il burro cacao Al sapore Tra virgolette Di Magnus Bane Che è il mio personaggio preferito appunto E non lo uso perché ho paura di rovinarlo E poi vedete La cartina di carta Che dice del personaggio Si muove Quindi non lo voglio troppo rovinare E qui di fianco Ho anche la candela Malek Al gusto appunto Tra virgolette Della coppia Malek Muschio orientale E sandalo Perché il sandalo è Il gusto preferito di Magnus E anche il muschio orientale Riguarda Alek Quindi hanno fatto un'ottima scelta Tra l'altro È glitterata Guardate Cioè È una candela glitterata È bellissima Sempre come oggetto Qui ho il mio stilo Personalizzato In realtà si è rotto Perché qui c'era tipo Un'ala di angelo Però non importa È sempre Il mio stilo Perfetto Ovviamente verde Perché è il mio colore preferito Ma è il mio stilo Poi ho La scritta Malek Sono le lettere di legno Sprese dai cinesi Cioè Possono acquistare tutti E questa cartolina Ho trovato la foto Sul Instagram di Cassandra Clare Del complano di Magnus Dell'ipotetico Complano di Magnus E E quindi L'ho stampata Con Lala Lab Che è un sito Per stampare foto Nessuna collaborazione Tranquilli E mi piaceva Allora l'ho stampata Queste due candele Non c'entrano Con il mondo Di Shadowhunters Però questa È il gusto mango Che mi ricorda Tanto Jace Perché a Jace Arondale Piace il mango E questa È il gusto sandalo Ovvero Il gusto preferito Di Magnus Bane Non c'è scritto Ma fidatevi Che è sandalo Ora possiamo iniziare Anche con i libri Direi Iniziamo con questi sopra Allora Il primo è Shadowhunters Il libro da colorare Il coloring book Alcune pagine Le ho anche colorate Tipo Eccola L'Aclays Oppure questa Cioè Però Non voglio colorare troppo Perché comunque L'uso più che altro Per rilassarmi E niente Mi piace troppo E vabbè Questo è uno Un altro che ho qui È Shadowhunters Nascono alcuni Ad infinita notte Che è una novella Di Le cronache di Magnus Bane Non era ancora uscita In cartaceo Allora Ho voluto stampare Solo questa novella Perché riguarda La Malek E niente Adesso Ce l'ho qui E Me la tengo Eppure è caduta Poi Ho questa novella Sempre tratta Dalle cronache Di Magnus Bane De Midnight Air Di Magnus Bane Story E niente Mi piaceva il formato Con queste rose blu Che riflettono la luce Solo in inglese In realtà E niente Solo questo Perché non è che faccio Tutta la collezione Avendo comunque Il libro di Le cronache di Magnus Bane Però mi piaceva Era carino E eccolo qui Possiamo iniziare Diciamo Questo lo faccio vedere dopo Poi Allora Primo libro Shadowhunters L'angelo Se mette a fuoco Forse Ecco L'angelo Che in realtà Non è il primissimo libro Però l'ho messo in ordine Diciamo Di epoche In cui Ci sono Gli avvenimenti narrati Quindi Questo Il principe E la principessa Pronti? Partenza? Via con la saga principale Città di ossa Mettiamo fuoco Grazie Città di ossa Con la copertina del film Città di cenere Città di vetro Città degli angeli caduti Città delle anime perdute E Città del fuoco celeste Che è l'ultimo Della saga principale Ritorniamo al libro sopra Le croniche di Magnus Bane In versione brussurata In cui Diciamo che questo È quello che pasticcio Per cercare le frasi Che mi sono piaciute di più Invece questo Quello in copertina rigida Tenuto perfettamente Senza tracce di Segnali Libri vari O Segni di frasi E sì È questa versione E le croniche di Magnus Bane Non sono finite Perché ho anche la versione inglese Tra l'altro Autografata Sì non so perché Ma ha avuto un pennellino indelebile E E si è rimasto il segno anche qua Vabbè Comunque Pazienza Le croniche dell'Accademia E ora parto con La trilogia Quella più nuova Diciamo Shadowhunters Signore della mezzanotte Tra l'altro Questa è l'edizione Limitata Con racconto In esclusiva Che nelle altre edizioni Non c'è Quello che sto cercando Di finire al momento Quindi Shadowhunters Signore delle ombre Il secondo volume E Shadowhunters Regina dell'aria delle temene Perché È un bel mattonazzo Ma lo leggerò Prima o poi Poi ho questo Che ha History of Notable Shadowhunters E And The Nisian The Nisies Of Daun Vabbè È scritto in inglese Non lo so pronunciare E Praticamente C'è uscito anche in italiano È la storia di illustri Shadowhunters Ma questo è in versione inglese Perché mi piaceva un sacco La copertina Rullo di tamburi Ce l'ho anche in italiano Ed è la stessa identica cosa Church Va bene Ok basta Ho anche Shadowhunters Il codice Nella versione Quella Molto più bella Di quella In flessibile Tra l'altro Questa è introvabile Adesso E vale un sacco di soldi Per esempio Io su Amazon Lo trovate anche a 100 euro E passa Ma comunque Io questa qua Me la tengo ovviamente Ah mi sono scordata Di dirvi che anche questa Edizione speciale Con contenuti esclusivi Che non troverete più Perché non la vendono più Con contenuti esclusivi Comunque Vabbè Poi ho City of Bones Cassandra Clare Dell'edizione Del decimo anniversario Dell'uscita Del Città di Ossa E Cioè 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 Vabbè Cioè Vabbè È bellissima E niente Ce l'ho E questa è la versione inglese E ce l'ho anche in italiano Sempre per il decimo anniversario E Cioè E anche questo Qui ci sono le fan art Come nell'edizione inglese Non potevo non prenderla Anche in italiano Chiamatemi pazza Chiamatemi come volete Ma è una mia passione Poi ho The Infernal Devices Clock Your Angel Che praticamente è il primo libro Delle origini Il principe Però Questa è l'edizione A fumetti Poi Clock Your Prince E Clockwork Princess Sempre a fumetti Ho City of Bones Sempre in versione A fumetti È uscito anche il secondo E Molto probabilmente Lo prenderò Perché è fantastico Ora vi mostro Dei libri Che Uno c'entra Col mondo di Shadowhunters L'altro Più o meno Poi vi spiegherò Il motivo Shadowhunters Guide City of Bones Praticamente La guida del film Su come Ops Scusate Però con una mano sola È difficile Dove spiegano Alcune scene Del film Vedete Ecco per esempio Qua c'è Jace Clary Insomma È una guida Del film E questo è quello Che c'entrava di più Con Shadowhunters Questo è quello Che c'entra Ne L'ho trovato su Amazon C'era scritto Shadowhunters E miti Riguardanti Shadowhunters Infatti c'è scritto Scopriamo Diciamo le leggende Dietro A The Mortal Instruments Perché Ne Non l'ho ancora letto Però in teoria C'entra Come una sorta Di questo Ovvero Una guida Sul Dietro le quinte Di Shadowhunters L'ho trovato su Amazon C'entrava Shadowhunters Quindi l'ho preso Siamo arrivati Quasi alla fine Siete arrivati Fini a cui Siete stati bravissimi City of Bones Dell'edizione originale Con Jace In copertina Perché mi piaceva Questa Questa copertina Anche se A fine anno Usciranno Tutti i libri In italiano Con le copertine originali Che formano dietro Tutti i disegni E penso che Li comprerò Vendendo tutte queste Ovviamente Perché se no Non saprei dove metterli Però vabbè Questo diciamo È l'ultimo libro E poi c'è un ultimo gadget Che vi faccio vedere Eccolo qui L'ultimo gadget E voi cosa dire Cosa possono essere Secondo voi Sono semplicemente Delle carte Con i personaggi Vabbè Adesso non le mostro tutte Però vedete Cioè tipo I personaggi Di Shadowhunters Praticamente Sono uguali A questo libro qua Ma sono solo carte E niente Come vi dicevo L'ultimo arrivato La mano scarlatta Di Shadowhunters Cioè Non di Shadowhunters Di Cassandra Clare Ed è il primo Della trilogia Della Malek Che al momento È in lettura Vedete Ecco qua E siamo giunti Alla fine Della mia collezione Più che altro Di libri di Shadowhunters Perché ripeto Gadget Non voglio tirarli fuori A parte quelli Che sono già Sulla mensola Spero che il video Vi sia piaciuto Che non vi abbia Annoiato Insomma Anche se non vi interessa Shadowhunters Non criticate Diciamo Gli opinioni Positivi Di Le opinioni positive Di chi ha amato Questa saga Tipo me Io ho amato questa saga Tranne appunto Qualche libro Che secondo me Poteva anche non fare Tipo The Dark Artifice Artifice Perché Non è bello Ma comunque Dettalli Sono opinioni personali Sono collezioni personali E non mi dite Nei commenti Hai sprecato Troppo i soldi Perché hai comprato Tipo Tre libri Di Recolonica Di Magnus Bane Perché Tanto Sono i miei soldi E li spendo Come cavolo voglio Detto questo Spero che vi sia piaciuto E alla prossima Ciao Prima di Glitterose